te ne vuoi venire a casa questa sera abito a casa d'anduno provincia di napoli e ti porterò anche a capri ho comprato la barca apposta che aveva già montato la capa di quello che avevi detto prima sono convinto che se torniamo indietro tu mi dici sì sono convinto che se noi torniamo indietro tu mi dici sì non manana ma non manana non manana non manana non manana non manana non ma non saate così mo No.